Ciao, oggi parliamo di posizionare gli elementi sul foglio. Essere capaci di posizionare in modo corretto gli elementi su una pagina permette creazioni veramente strabilianti. Intanto facciamo un piccolo ripassino generale tanto per ricordarci quali sono le basi. Tutte le volte che io inserisco un elemento di qualsiasi genere, adesso io prendo delle forme ma qualsiasi cosa è uguale, prendo tre molto diverse così non si confondono. Dunque tutte le volte che io posiziono degli oggetti sulla mia pagina sappiamo che questi vengono posizionati sovrapposti uno con l'altro, tant'è che io ho scelto tre oggetti con lo stesso colore è difficile distinguerli. Non solo ma vengono posizionati sovrapposti al centro della pagina con un ordine ben preciso cioè non a caso. l'oggetto che sta a livello superiore cioè davanti a tutti è l'ultimo che è stato inserito. Il vantaggio di avere gli oggetti tutti raggruppati potrebbe rivelarsi quando devi utilizzare oggetti che hanno tutti la stessa dimensione perché ti basterà fare così, vedi che vengono selezionati tutti, fa niente se tu non li vedi. Li selezioni, poi basta che tiri il solito pallino e questi oggetti adesso avranno tutti la stessa dimensione. Adesso cambiamo colore in modo da distinguerli. Questo è uno, è un altro e questo è un altro ancora. Ecco qua. Il primo era questa sorta di ruota dentata ed effettivamente se tu lo sposti vedi che è davanti a tutti gli oggetti. Questo è stato l'ultimo ad essere inserito. Questo è stato il secondo quindi è a un livello superiore perché qui si sta parlando di livelli rispetto al primo ma vedi che rimane dietro a quello che è stato inserito dopo di lui. Questo che è stato inserito per primo rimane a un livello inferiore rispetto agli altri cioè è dietro a tutti. questa è una regola che è bene tenere a mente. Tutte le volte che noi selezioniamo un oggetto e andiamo su posizione abbiamo la possibilità di cambiare questa posizione. Adesso abbiamo la stella davanti al quadrato. Se io seleziono il quadrato che adesso è dietro rispetto alla stella, vado su posizione, che cosa mi dà? Mi dà la possibilità di portarlo avanti. Certo non posso portarlo indietro perché è già indietro. Se io clicco avanti, guarda quello che succede qua, ecco che il mio quadrato è davanti alla stella. Rimarrà comunque sempre dietro a questa ruota perché la ruota è stata l'ultima cosa che abbiamo inserito. Però se io seleziono la ruota e gli dico portale indietro, ecco che la mia ruota è finita dietro il quadrato. Quello che ti ho fatto vedere con queste figure si può fare con qualsiasi cosa. Io posso tranquillamente inserire una foto qualsiasi. Prendiamo una foto che abbiamo già usato, così facciamo prima. Ecco la foto della stella Marina è l'ultimo elemento inserito sulla mia pagina, quindi vedi che sta davanti a tutti, ma io posso tranquillamente dirgli sposta indietro piano. E allora andrà dietro l'elemento che è stato messo davanti a tutti per ultimo, ma è comparsa un'altra possibilità. Sposta in secondo piano. Perché questo? Perché io adesso ne ho tanti di elementi sovrapposti, non ne ho più soltanto uno. Guarda cosa succede se io gli dico sposta in secondo piano. Viene messo dietro tutto. E poi posso fare un'altra cosa ancora, posso dire imposta questa immagine come sfondo. E a questo punto allora la fotografia che io ho inserito viene messa come sfondo della mia pagina. Nel tutorial sulle immagini animate noi abbiamo fatto emergere dall'acqua il disegnino di una balena, ne abbiamo fatto scavalcare un omino nel canotto e poi l'abbiamo fatta tuffare di nuovo nel mare. In quel caso è stato abbastanza semplice, ma io potrei aver bisogno di posizionare le mie immagini dando degli effetti più precisi. Allora, adesso che abbiamo ripassato bene davanti, dietro, andiamo a fare qualcosa di un pochino più complesso. Prendiamo una pagina bianca e inseriamo l'immagine di un dinosauro. Ad esempio questa qua. Benissimo. Io voglio un dinosauro che esca dalla sua grotta. Allora vado a cercare anche grotta e prendo questa che mi sembra proprio perfetta. Bene, perché questo trucco per così dire funzioni hai bisogno di lavorare con immagini però che non abbiano lo sfondo. Vedi che sia questa, non ha sfondo, altrimenti sarà impossibile giocare sulle posizioni come abbiamo visto prima. Ti ricordo questo sito remove.bg che ti avevo già fatto vedere in un tutorial precedente che è un sito gratuito che permette di eliminare lo sfondo dalle fotografie. Bene, allora abbiamo il nostro dinosauro, abbiamo la nostra grotta. Apro la grotta in modo che occupi tutto lo spazio e il dinosauro mi è rimasto dietro. Niente. Posizione. Dico alla grotta di andare dietro ed ecco che ho il mio dinosauro davanti. Io però voglio che questo dinosauro esca dalla grotta. Voglio che questa parte del dinosauro non si veda. Vediamo cosa succederebbe se io mi limitassi a tagliarlo. Dovrei fare così e così. Vediamo un po'. Ma non funziona. Perché non funziona? Perché il profilo dell'ingresso della grotta non è perfettamente perpendicolare, vedi? Quindi io non posso limitarmi a tagliare l'immagine perché mi viene un lavoro fatto male e noi non vogliamo fare dei lavori fatti male. Quindi giocherò con quello che ho imparato a fare sulla posizione delle immagini. Vado sulla grotta, vado a prendere un'altra grotta, la sovrappongo perfettamente a quella di prima, clicco due volte oppure clicco taglia, è la stessa cosa e poi tolgo la parte che non mi serve. Questa parte non mi serve perché in realtà io voglio che il muso del dinosauro si veda. Allora prendo la maniglietta, mi sposto, ecco, e mi metto qui. Clicco fuori ed ecco quello che è successo. Qui si vede tranquillamente il muso del dinosauro sovrapposto. E qua, se noti, possiamo anche allargare, ecco, vedi che la coda non è stata tagliata perpendicolare ma qui c'è il profilo della grotta, come è giusto che sia. Quindi abbiamo fatto un lavoro di precisione. Dopodiché, questo bianco è molto brutto. Allora cosa faccio? Io mi posiziono sulla parte bianca della pagina e inserisco un colore. Però ecco, attenzione, se io inserisco un colore nello sfondo, guarda che cosa potrebbe succedere. Certo, perché noi abbiamo allargato la prima immagine della grotta, facendola diventare lo sfondo della nostra pagina. Allora, come posso fare per ovviare a questo problema? Allora, torno indietro, clicco con il tasto destro sulla prima immagine della grotta che abbiamo inserito, gli dico separa l'immagine dallo sfondo e guarda quello che succede. Hai visto? L'ha separata. Bene, benissimo. Adesso noi andiamo a lavorare dietro, siamo anche più comodi. Clicco qua e gli dico metti un colore. Io posso anche scegliere il colore come ho imparato, prendendolo dal documento, tutte queste cose qui, però guarda che brutto effetto. Cioè, è poco credibile un colore così pieno. Ora cosa posso fare? Anziché inserire un colore in questo modo, vado su elementi, scrivo gradiente, scelgo grafiche, perché è qui che trovo i gradienti che si possono modificare e vado a scegliere, magari una cosa così, ok? E poi gli dico imposta immagine come sfondo. Adesso posso riprendere la mia foto della grotta e la posso allargare e riportare come prima. Naturalmente gli dovrò dire mettiti dietro. Quindi abbiamo ritagliato bene qua, sovrapponendo le due grotte, qui si vede. Io poi posso aggiungere degli elementi sempre tenendo conto della posizione. Allora posso scegliere un cespuglio, questo va benissimo, posso metterlo qui, lo rimpicciolisco, ecco fatto. Questo va bene qui davanti perché è all'ingresso, ma io potrei mettere qua dietro un altro cespuglio. Quando io inserisco l'elemento, siccome questo è l'ultimo, vedi che sta davanti a tutto. Perfetto. Io però lo voglio mettere dietro. Posizione. Prima noi avevamo soltanto avanti, indietro, ma adesso abbiamo molti elementi, abbiamo più livelli, non ne abbiamo soltanto due, per cui un oggetto può essere o davanti o di dietro. Quindi è comparsa un'altra possibilità. Primo piano, che vuol dire davanti a tutti gli altri, oppure sullo sfondo, che vuol dire dietro tutti gli altri. Quindi facciamo una prova qua. Ecco, se io mi limito a dire al cespuglio che ho inserito adesso, vai indietro, lui andrà, vedi, dietro l'ultima immagine che abbiamo inserito, che era in doppione della grotta. Ma io voglio che stia anche dietro la zampa, per cui devo dirgli, vai sullo sfondo. Ed ecco fatto. Quindi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che io posso gestire posizione degli elementi sovrapponendo più livelli e inserendo anche oggetti diversi tra loro, disegni o fotografie o sfondi di colore. Ovviamente poi starà a te e alla tua fantasia giocare con questa possibilità, ma soprattutto quello che a me interessava di più è realizzare qualcosa di estremamente preciso e quindi di qualità. Qui ci sono degli esempi pratici per applicare nel concreto quello che abbiamo imparato oggi. Ad esempio per realizzare delle copertine o di lavori o da stampare e applicare sui tuoi quaderni. Bene, spero di esserti stata utile e ci vediamo la prossima volta per imparare qualcosa di nuovo. Per adesso, buon lavoro!